...e il programma comincia tra ciughe e aglio e olio, cottura sempre al dente, con circa 7 minuti di cottura totale, tra vessatura e mantecatura. ...e soprattutto fiamma alta per fare un po' di crema dello spaghetto. ...e il gruppo signore di film e il gruppo peccolo fondatore. ...e il gruppo peccolo fondatore. ...e il gruppo fondatore.